Ci piace pensare che certe cose migliorino col tempo e per fortuna talvolta è veramente così. Oggi andremo a vedere una fotografia che ho scattato diversi anni fa, andremo a vedere come l'avevo post prodotta all'epoca e come invece andrei a post produrla oggi e vi dico già da adesso che il mio editing di oggi è molto più efficace, più incisivo e mi fa risparmiare un sacco di tempo. Questo non perché io sia bravissimo adesso ma perché ero scarsissimo quando ho cominciato. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e sono un fotografo che si diletta a fare video su YouTube. Come detto oggi andiamo a prendere una fotografia che non è la mia preferita di tutte quelle che ho fatto, però se dovessi andare a pensare di fare una selezione molto ristretta di immagini che ho catturato nel corso degli anni questa sarebbe sicuramente una delle prime a cui andrei a pensare. Come potete vedere è un bellissimo ritratto molto inusuale, foto che sono difficili ormai da fare perché persone con questa espressività sono sempre più difficili da trovare al giorno d'oggi. Io mi ricordo molto bene che scattai questa fotografia con Canon EOS 7D e il bellissimo 100mm f2.8 macro, che è una lente che come vedete non fa solo macro, è una lente spettacolare anche per ritratto. Le impostazioni di scatto di questo ritratto sono tutte cannate perché io stavo scattando in ombra e stavo scattando a ISO 100 e stavo scattando a f2.8 e un 125, addirittura un centesimo di secondo. Infatti questa è un'immagine che ha un micromosso piccolissimo, però io so che c'è quindi lo vedo, e il punto di messa a fuoco è sbagliato perché è a fuoco il naso e non è benissimo a fuoco l'occhio, quindi poteva essere fatta meglio. Però per l'espressività e per la resa globale è una delle mie foto a cui proprio penso quando dico, se mi dovessero dire raccontaci chi sei come fotografo, bam, questa sarebbe una che sbatterei lì tra le prime, sicuramente. Nonostante io non sia un ritrattista, nonostante non sia quello che faccio la maggior parte delle volte, però sarebbe una delle prime immagini a cui penserei. Oggi voglio farvi vedere come l'ho editata all'epoca in cui l'ho scattata, l'ho editata per l'epoca andava bene, oggi non mi riconosco più in quell'editing, tant'è che mi ricordo come l'avevo editata mi ricordo il disastro che avevo fatto a livello concettuale proprio perché la resa poi va bene, cioè la resa finale del mio editing di allora funziona ancora oggi, non dico che faccia schifo, funziona. È il procedimento che era assolutamente neanche lacunoso, era criminale perché mi ricordo che ho usato pennelli su pennelli su pennelli per fare correzioni locali, oggi non farei più niente di tutto questo, oggi ho fatto due correzioni locali piccole, fine. Il resto sono soltanto fader e la consapevolezza che l'immagine è così che più di tanto non la si può cambiare e che bisogna tirare fuori il meglio da quello che si è scattato anche per rendergli giustizia. Quindi lavorare non per andare a stravolgere quello che era veramente ma per andare a enfatizzarlo. Ovviamente come potete vedere questo è un lavoro che puntava a un effetto dragon, quindi ovviamente non è particolarmente fotorealistico, anzi è molto contrastato, c'è molta clarity, è proprio un'immagine forte con una post-produzione assolutamente evidente e questo è un tratto che non ho nessuna intenzione di rimuovere, sarà ancora così anche l'editing finale che vi farò vedere oggi. Però a differenza dell'editing di tanti anni fa, qui ci sarà dietro della competenza, ogni singola cosa che andrò a fare avrà un effetto preciso e sarà esattamente quello che io voglio, laddove invece quando la feci la prima volta alcune cose, ammetto, erano sperimentali per me perché non le conoscevo, non le padroneggiavo, quindi erano operazioni fatte a caso sperando di ottenere un risultato. Oggi sapendo esattamente come ottenere quel risultato non solo vi tiro fuori un editing che secondo me è migliore, ma ci metto anche, ci ho messo 30 minuti contro 3 ore della prima volta. 30 minuti contro 3 ore. Quindi infatti è anche questo che vi porto oggi, il fatto proprio che nel momento in cui uno progredisce non è necessariamente che diventa più bravo perché è diventato un fenomeno, è anche perché ci mette di meno, perché sa dove andare. È sintomo un po' che si sta invecchiando, conoscete il famoso detto, il cacciatore giovane corre più veloce ma il cacciatore anziano conosce già la strada. Prima di tuffarci all'interno dei miei computer, vi ricordo per chi non l'avesse già fatto, di iscrivervi cliccando subito il bottone qui sotto e attivando anche la campanella così non vi perdete i prossimi contenuti. Lasciate anche un like a questo video perché visto che lo state seguendo evidentemente l'argomento vi interessa. Perfetto, eccoci qui all'interno del mio vecchissimo computer, questo che è, credo che sia, questo che è il secondo Mac che mi sono comprato con i miei soldi, quindi non è il primo ma è il secondo, gli anni passano. E qui abbiamo questa foto con il primo edit che io feci per questa immagine, andiamola a vedere isolata, guardate non è neanche brutta. Ci sono delle cose che sicuramente si possono fare meglio, infatti ho già fatto meglio e oggi vado solo a farvele rivedere. Intanto vi faccio vedere che cosa è stato fatto su questa immagine. Cominciamo col vedere che innanzitutto credo di aver applicato il mio preset per la nitidezza, infatti qui vedo che sono state fatte delle cose, sembra proprio essere uno dei miei preset, che trovate ovviamente in free download, basta andare sulla sezione download in descrizione. Ora qui, come potete vedere, se questa roba si leva gentilmente, ecco, io qui ho fatto subito contrasto più 45, questa è una cosa che non farei più, è una cosa proprio che non mi piace. Poi clarity più 20, ecco qui ho toccato che sbaglio, clarity più 20 è una cosa un po' violentina, però su un'immagine di questo tipo ci sta anche. Vibrance meno 77, Saturation meno 7, questo ci sta anche perché è simile a quello che ho fatto anche nella seconda volta. Per quanto riguarda le curve, vedete che qui ho lavorato prevalentemente sulle curve. Oggi questa cosa io non la farei più perché andrei a lavorare prima su questo pannello, prima di andare a scomodare le curve e infatti non le ho toccate le curve nel mio secondo edit. Dopodiché nel pannello colori vedete che non ho fatto niente, mentre la seconda volta mi sembra di aver toccato qualcosa. Vabbè qui correzioni del profilo, le solite cose, qui invece non ho toccato niente. La cosa però che mi lascia allibito, perché mi ricordo mentre editavo questa foto, guardate qua, la cosa che mi lascia allibito ancora oggi è la quantità di pennelli, guardate che roba, guardate quante correzioni locali ho fatto, guardate quanti piccoli edit ho fatto per aggiungere pezzettini di roba, per aggiungere cose. Questi sono gli occhi e questo l'ho fatto ancora. Due pennelli per gli occhi. Queste sono cose che oggi faccio in maniera molto più efficiente senza stare a fare tutti questi pennelli e poi immaginatevi ognuno di questi pennelli dentro a dargli delle micro regolazioni, delle cose tutte personalizzate. Oggi questa è una cosa che non farei più, ma mi rifiuto di fare un lavoro fatto in questa maniera. Anche perché, e qui arrivo alla mia critica, che poi non è una critica ad Adobe ovviamente, perché io non è che critico il fatto che esistano i metodi di selezione all'interno di Lightroom, è uno strumento e come tale sta a noi trovargli un utilizzo e farlo fruttare, renderlo utile. Quello che io critico è l'idea che certe persone si sono fatte di quello strumento. Vi dico la mia, io non lo uso. Non lo uso perché fare delle selezioni dentro Lightroom, andare a fare tutte queste micro regolazioni, tutte queste pennellate, tutti questi micro aggiustamenti. Nel corso degli anni mi sono fatto un'idea e vi chiedo nei commenti se secondo voi è giusta, se siete d'accordo. La mia idea è questa. La foto è buona? Non ce n'è bisogno. La foto non è buona? Allora puoi mettere tutti i pennelli che vuoi che tanto non la recuperi. La mia idea è questa, quindi è uno strumento. Non metto in dubbio che ci siano dei casi in cui può tornare molto utile, però l'utilizzo che ne fanno molti utenti e come è stata accolta questa nuova tecnologia, ovvero, ah che bello, adesso si possono fare le selezioni quindi posso entrare dentro in Lightroom a pastrugnare tutto, è sbagliato, secondo me è sbagliato e ve lo dimostro andando a farvi vedere il secondo edit che secondo me è migliore e non ho usato correzioni locali o comunque ne ho usate molte di meno. Ok ma eccoci qui sul nuovo computer e come potete vedere innanzitutto andiamo ad aprire esattamente lo stesso shooting ma lo facciamo con Photoshop che aprirà automaticamente il modulo di sviluppo di Camera Raw. Lightroom a me piaceva moltissimo però col fatto che caricava tutte le volte tutto il catalogo era diventato troppo pesante quindi preferisco lavorare in questa maniera. Allora eccoci qui con la nostra foto e questo è già l'editing finito quindi adesso andiamo a vedere che cosa è stato fatto. In particolare andiamo a vedere le differenze tra il primo editing e il secondo. Non vi faccio vedere tutti i passaggi tanto vedete i parametri nel caso voleste copiarli. Allora profilo Adobe Standard, temperatura, qui ho lasciato tutto come è stato scattato perché mi piaceva già l'avevo già impostato in camera. Qui vedete che ho usato il modulo di sviluppo per l'esposizione a differenza della prima volta che avevo usato le curve e non c'è clipping quindi è un'immagine che non presenta zone di perdita di dettaglio quindi ottima cosa perché rappresenta di più il mio stile di adesso. Come potete vedere ho usato un po' di Dehaze ma Clarity e Texture le ho lasciate a zero perché le ho utilizzate dopo su delle regolazioni locali. Vibrance più 40 Saturation meno 65 è una cosa meno estrema rispetto a quella che avevo fatto in precedenza. Curve vedete che non le ho proprio toccate le curve. Dettagli qui qualcosina è stato fatto sicuramente questo potrebbe essere un preset uno dei miei preset sharpening e infatti è sharpening soft quindi ho applicato uno dei miei preset come prima cosa. Color mixer vedete che qui ho fatto sì delle cose e andiamo a vedere le differenze ecco questo era il prima e questo è il dopo. Vedete che ho fatto delle cose delle modifiche che secondo me sono assolutamente migliorative sui toni dell'immagine tutte cose che prima non avevo fatto non ve le sto a commentare tutte perché è abbastanza empirica questa cosa bisogna prendere gli slider e vedere se cambia qualcosa tirandoli. Per quanto riguarda il color grading vedete che gliene ho dato pochissimo è una modifica veramente ridicola è veramente bassissima. Optics abbiamo solite correzioni del profilo geometri ovviamente niente effetti qui abbiamo una vignettatura abbastanza pronunciata ma con un feeder molto ampio perché non voglio che si veda che è stata messa una vignettatura. Andiamo a vedere le regolazioni locali e vedete che a differenza della prima volta certo ci sono delle regolazioni locali anche questa volta ma sono due ragazzi sono due e sono molto molto semplici sono delle regolazioni locali per il colore degli occhi e per la clarity e la texture che ho applicato su tutta quanta la sua figura ma non sullo sfondo. Quindi la prima volta avevo applicato texture e clarity anche sullo sfondo questa volta invece no. Abbiamo anche una correzione locale con il pennello e vedete che qui ho rimosso quella linguetta chiara quel pezzettino chiaro che c'era qui in basso a destra che mi dava molto fastidio e la prima volta l'avevo lasciato stavolta invece lo tolgo lo faccio sparire perché non mi piace e quindi questo qui è il nuovo editing ditemi voi nei commenti se vi sembra migliore. Personalmente io credo che sia più fedele a com'era veramente la scena credo che sia un editing migliore innanzitutto per come è stato realizzato perché ci ho messo la metà del tempo era una cosa veramente in vera e con del tempo che ci avevo messo la prima volta. Questa volta invece ci ho messo meno tempo e ho ottenuto un risultato che mi rappresenta di più e risulta più naturale meno artefatto meno meno stra processato mentre la prima volta era veramente troppo troppo processata quell'immagine quindi fatemi sapere cosa ne pensate ci rivediamo in studio per le conclusioni. Bene amici eccoci di nuovo in studio come avete potuto vedere si tratta di una foto fatemi sapere in un commento come vi sembra com'è secondo voi voglio voglio dei pareri a questo punto a me piace è una foto in cui mi identifico non perché ci sia io nella foto ovviamente però nonostante io non faccia quasi mai ritratto ormai non faccio praticamente mai ritratto faccio altro però è un'immagine che mi piace in cui mi riconosco in cui capisco riconosco quello che ho pensato mentre la stavo scattando e mi ci ritrovo ancora oggi quindi può significare che non sono progredito per niente come ritrattista oppure che avevo azzeccato una bella immagine già all'epoca. L'editing di oggi secondo me le rende giustizia in maniera molto migliore rispetto a quanto avevo fatto nell'anno in cui l'ho scattata e ho deciso quindi di portarvi questo doppio editing per farvi vedere intanto questa bella immagine di cui sono comunque sempre molto contento più ancora che l'editing mi premeva farvi vedere l'immagine perché molti mi hanno scritto nei commenti direct e robe varie tu parli tanto però ci fai vedere poco di quello che fai ora questo non era un lavoro su commissione cioè non era l'assignment della giornata non era fare un ritratto di questa persona era documentare la giornata perché questo era il set di un film quindi questa è un'immagine fra tante che documenta il set di un film e quest'uomo era uno degli attori recitava in questo film quindi questa possiamo dire che è fotografia documentaristica di backstage e fondamentalmente non era richiesto un editing come questo non era assolutamente richiesto anzi probabilmente la voleva non neutra quest'editing è una cosa che io avevo fatto per me e continua a essere per me perché questa foto nessuno me l'ha chiesta nessuno me la sta chiedendo nessuno la cerca però piace a me è un'immagine a cui sono anche legato perché è stata proprio una delle prime volte che guardandola già nel sul display della fotocamera già all'epoca ho pensato bella questa continuo a pensarlo ancora oggi e quindi a differenza del video che avevo già fatto uscire in cui vi parlavo di foto che avevo fatto ai primi tempi quando avevo cominciato foto che non mi rappresentano più questa invece è una foto che mi rappresenta ancora il che è molto grave perché vuol dire che probabilmente non sto più migliorando però ci tenevo comunque a farvela vedere perché per un verso o per l'altro se ancora mi piace un motivo ci sarà signori fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video